Cambio di guardia per il battaglione Alpini L'Aquila stamane presso la caserma Rossi, cerimonia ufficiale durante la quale l'ex comandante, il tenente colonnello Antonio Sedia, ha consegnato il gagliardetto al parigrado Marcello Orsi. Un anno intenso, dice il comandante uscente, per la città abbiamo fatto tanto con il progetto Strade Sicure, in particolare nella zona rossa. Un anno intensissimo, comandare degli uomini è la ragione d'essere di ogni comandante. Se poi pensiamo che ho comandato, potrò annoverare nel mio curriculum il comando del glorioso battaglione Alpini L'Aquila, per me capite che è un orrore massimo. Quello che ha impegnato più il battaglione in questo periodo, come sapete, è l'operazione Strade Sicure, dove il battaglione è stato impegnato totalmente. Per me è stato un onore capire le problematiche. Dunque voi vi siete occupati della zona rossa in particolar modo anche? In particolar modo. Interamente il battaglione ha supportato le forze di polizia locali con questo compito. Per noi è stato difficile capire all'inizio le preoccupazioni della popolazione, integrarsi nella mente del popolo aquilano e qui cercare di amalgamarci con voi, capire i problemi proprio della costruzione e tutte le vostre preoccupazioni. Nell'arco di un anno si è riusciti, hai notato qualche evoluzione in positivo? Molte, molte. Siamo riusciti, abbiamo visto che il centro è stato pulito, si è provveduto alla riapertura, a consentire agli aquilani di vivere il centro. Chiaramente ancora ci sono problemi, lo sapete meglio di me, ma noi siamo lì presenti e a disposizione. E adesso dove sarà il suo prossimo incarico? Il mio prossimo incarico? Ritorno a Roma, stato maggiore dell'esercito, terzo reparto impiego delle forze, ufficio addestramento. Avrò il compito come capogruppo di lavoro di un progetto che da molti anni stiamo seguendo, il progetto si chiama Sistemi Integrati per l'Addestramento Terrestre, che ha il compito di consentire alle nostre truppe di addestrarsi in maniera simulata. Onorato ed emozionato Marcello Orsi di rivestire questo incarico proprio nella caserma dove ebbe modo di iniziare la sua carriera. C'è molto da fare all'Aquila se andrà avanti con strade sicure e con altro ancora, certo non sarà facile, ma gli alpini non temono le difficoltà, si uniscono e le superano. Sono molto emozionato, sono onorato di ritornare a servire in questo battaglione che mi ha dato i Natali dal punto di vista professionale, perché io ho comandato la compagnia qua per cinque anni e qui ho costruito le mie più importanti esperienze professionali. quindi sono veramente orgoglioso di servire l'Aquila, di servire in Abruzzo, una terra che mi lega per tanti motivi, insomma mi tiene stretto. Continueremo strade sicure fino a ordini contrari, dopodiché eventualmente ci prepareremo per attività fuori area. Per quanto riguarda la donata alpini che si spera che venga qui nel 2014, crede che sarebbe una cosa positiva per la nostra città? Sicuramente la vicinanza di tutti gli alpini d'Italia a una città come l'Aquila, che già insomma solo nel nome porta il simbolo delle truppe alpine, credo che sia quantomeno significativo e utile probabilmente. Quali crede che saranno le maggiori difficoltà che si potranno incontrare o meglio le cose per le quali bisognerà lavorare un po' di più? Ma io credo che le difficoltà non ci saranno, perché gli alpini hanno sempre dimostrato di saper superare qualsiasi tipo di difficoltà. La volontà, il senso di appartenenza sono cose che aiutano sempre e eliminano qualsiasi tipo di ostacoli.